Controlli in litorane a Battipaglia e Ponte Cagnano-Faiano da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia. Ben 25 gli uomini impegnati nell'operazione che ha coinvolto un accampamento abusivo in via Magellano a Ponte Cagnano-Faiano dove sono state trovate 20 persone, 8 delle quali senza documenti e 2 risultate clandestine e destinatarie in via immediata di un provvedimento di espulsione dall'Italia. Nel fondo contiguo i carabinieri hanno ritrovato alcuni attrezzi agricoli trafugati nei giorni scorsi in due aziende di Giffoni Vallepiana e Giffoni Seigasali.